È una Trenta fantastica, stiamo bene insieme, sono dei ragazzi fantastici, abbiamo lottato tante partite insieme e siamo venuti fuori da tante difficoltà. Credo che è una squadra che è cresciuta durante la stagione e si è fatta valere nei momenti importanti della stagione. Adesso arriva il bello di Trento. Cresciuto nelle giovanili di Trento, assieme ai grandi campioni come Wantore e Nekazischi, 26 anni, Pippo Lanza, perno della Nazionale Azzurra e oggi capitano della squadra che affronterà Civitanova nella finale Scudetto. Così si descrive. Fuori dal campo è uno che gli piace scoprire, che gli piace imparare cose nuove, lavorare anche fuori dal campo, avere le sue passioni e lanciarsi su nuove esperienze. Fosse stato un giocatore di palla a volo, Pippo Lanza sarebbe stato? Probabilmente un Puliziotto. Sono uno che rispetta molto le regole. Mio padre faceva il Puliziotto e lo ammiro anche per questo. La cosa più importante nella vita è? Sicuramente le persone che ho vicino e dare valore a chi mi sta vicino e chi mi aiuta sempre. Civitanova? Dico paura? No. Dico squadra fortissima. Bellissimi giocatori, sarà molto dura. Ma Trento? Ma Trento c'è sempre.